Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti prima di ogni cosa. Diciamo che quelle che sono un po' le notizie intorno al nostro Roma le ho riferite, le ho riferite comunque nel post copubblicato. A chi mi dice se magari sono pessimista, ma a mio parere non è una questione di pessimismo, è una questione che comunque da quando è arrivata questa proprietà, quest'anno è obiettivamente il mercato più critico, il mercato che presenta maggiori criticità, maggiori difficoltà. Comunque in questi anni è stato un decrescere dal punto di vista degli investimenti, perché il primo anno c'è stato un investimento cospicuo, il secondo anno sono stati gettati sul mercato, almeno nei cartellini, solamente 7 milioni e quest'anno francamente ha ormai pochi giorni dall'inizio del campionato, non è stato ancora speso niente in cartellini, quindi da questo e-trend si evidenzia perfettamente come sia oggettivamente il mercato più critico. Con questo però non è che io voglio, come dire, sollevare da ogni responsabilità la nostra proprietà e neanche tantomeno i nostri dirigenti, perché ci sono club che in questi anni hanno operato nelle stesse condizioni nostre economiche, che però hanno saputo ritagliarsi il cash dal nulla. Io potrei fare un esempio molto banale. Prendiamo il caso dell'Atalanta, che lo scorso anno ha pescato a 15 milioni Oilund, che quest'anno lo sappiamo tutti a quanto l'ha rivenduto, praticamente a 80 milioni. Oppure, se volete, facciamo anche il caso che ci è accaduto in passato, perché queste cose non è che accadono solamente negli altri club e la Roma no. In passato, Sabatini sinceramente prendeva dei calciatori a pochi euro e poi li rivendeva al doppio, al triplo. Quindi, queste sono situazioni che anche alla Roma abbiamo vissuto. Però, indubitabilmente... Sì, ok, ciao Fede. Sto leggendo anche qualche commento. Indubitabilmente, in questi anni abbiamo commesso degli errori che ci hanno portato in queste condizioni. Perché, se Shomuro Tov a 20 fosse stato l'Oilund di turno, a quest'ora te lo rivendevi ad 80 ed ecco lì che potevi fare mercato in tranquillità. L'Inter ti è andato a pescare Onana a parametro zero e se l'hai rivenduta a 50, 60 o quello che è. Quindi, ancora prima di parlare della situazione attuale, ma che certamente è critica, però non si può non fare un passo indietro perché se ci troviamo in queste condizioni è anche, se non soprattutto, per degli errori che abbiamo perpetrato sul mercato. Quindi, a chi assolve totalmente pinto perché ritiene che il maggiore responsabile di questo impasse sia Fredkin o comunque la proprietà, mi sono permesso di ricordare queste cose perché comunque adesso ti trovi in questo punto proprio perché in passato hai commesso degli errori da un punto di vista strategico e da un punto di vista gestionale. Poi, per carità, quando un mercato non decolla le colpe vanno equamente distribuite tra proprietà e direttore sportivo. Però, insomma, voglio dire, in questo preciso istante la Roma ha l'obiettivo primario e prioritario in Marcos e Leonardo ed è chiaro che finché questa situazione non verrà chiarita nel bene o nel male la Roma è un po' bloccata perché comunque l'offerta presentata al Santos è un'offerta importante che complessivamente tocca i 18 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Quindi, quando questo affare avrà una definizione nel bene o nel male la Roma disporrà nuovamente di quella liquidità per portare avanti gli altri affari di mercato. Ma, ovviamente, nel frattempo e ora parleremo in maniera più approfondita del discorso legato a Marcos e Leonardo ed anche del discorso societario quindi, nel frattempo la Roma sta comunque bussando alle porte dei cosiddetti affari secondari che sono il centroavanti forte fisicamente quindi da lì i nomi di Arnauto i nomi di Duvan di Duvan Zapata e nomi che piano piano stanno scemando perché poi Weghorst si è accasato altrove Muriel è in procinto di accasarsi altrove Arnautovic c'è un po' di maretta su questo nome perché comunque il Bologna non sta mantenendo le promesse che aveva fatto all'entourage del giocatore Arnautovic sarebbe anche comunque un piano B piuttosto interessante anche per l'Inter e di conseguenza sul discorso di Arnautovic c'è una sorta di impasse ecco di impasse generalizzato per quanto riguarda Duvan Zapata la prima proposta avanzata dalla Roma è stata rispedita al mittente perché la Roma aveva proposto un prestito partendo da una base di un milione non ci sono enormi criticità su Renato Sanchez diciamo che sul fronte Renato Sanchez più che le criticità ci sono le mie perplessità perché questo è un giocatore che ha saltato 19 partite lo scorso anno per problematiche fisiche se lo aggiungiamo a Di Bala che ha saltato altrettante partite per problematiche fisiche e se lo aggiungiamo a Zapata che è un altro nome che lo scorso anno andatevi a vedere da Transfer Market tutto lo storico delle partite che ha saltato l'altro anno per problematiche fisiche è anche vero che ti può dire fortuna e quest'anno questi giocatori presenteranno una salute di ferro ma è altrettanto vero che il rischio di avere ulteriori elementi che possano saltare molto partite c'è ed è concreto per quanto riguarda il fronte societario i Fredkin considerano la Roma alla stessa stregua degli altri loro asset quindi finché sarà un asset con prospettive di business prospettive produttive lo terranno nel loro paniere ok tra le loro proprietà ma quando capiranno nel concreto che non c'è verso di fare lo stadio per dirne una che poi è il business principale di questa proprietà non avranno remore a cederla come ha fatto Pallotta in passato è restato finché c'erano dei margini per la costruzione dello stadio di proprietà quando è tramontata definitivamente questa ipotesi Pallotta in un amen avvenduto quindi diciamo che nei prossimi giorni nelle prossime settimane dovrebbe essere fatta ulteriore chiarezza sul versante stati e quindi se i Fredkin sostanzialmente riceveranno un divieto d'accesso totale secondo me si attiveranno per vendere la proprietà perciò chi sta leggendo in questo impasse attuale un qualcosa di perlomeno sospetto intanto ne possiamo parlare tra l'altro perché la Roma non è più una società quotata in borsa non è che dice il falso questo è un possibile scenario di vendita societaria diciamo che ad oggi fino a questo momento i Fredkin proprio perché ancora motivati da questa possibilità di costruire lo stadio di proprietà non cercavano la vendita del club ma cercavano e cercano tuttora dei soci che possano mettere liquidità nelle casse del club per consentirli comunque una vita più serena di quella attuale perciò al momento il loro piano è quello di trovare per quanto sia abbiente un socio ok un socio non praticamente una persona che rilevi il club però qualora intuissero nei prossimi giorni appunto che non c'è alcun verso di costruire uno stadio di proprietà che probabilmente in questi anni hanno subito come dire una barzelletta così come quelli che hanno dovuto subire i predecessori credo che non esiteranno ad avviare le pratiche di vendita del club perché comunque quello che non deve mai farci cadere in errore è il pensare che questi presidenti siano affezionati al nostro club e non è assolutamente così è solamente uno dei tanti asset che hanno nel loro paniere di investimenti quindi per quanto riguarda il versante societario è questa la situazione per quanto riguarda Marcos Leonardo ripeto il giocatore si sta comportando veramente in maniera scorretta perché sono già due gli allenamenti che saltano ed è possibile che salti anche quello odierno ok quindi a mio parere è un comportamento veramente scorretto perché noi stiamo tacciando Matic di scorrettezza in effetti e in realtà Matic dal punto di vista fisico sta bene eppure praticamente ha saltato la partita non ha seguito il gruppo sta facendo un po' di Maretta però ragazzi alla fine comunque non possiamo accusare Matic e poi essere felici del fatto che Marcos Leonardo si stia comportando in maniera assolutamente scorretta con il Santos anche lì è un quadro tutto da definire perché la Roma fa forza sul comportamento di Marcos Leonardo come faceva forza nelle trattative che non sono andate in porto sulle presunte volontà dei giocatori ma la realtà è che il Santos sta concretizzando la cessione di Washington al Chelsea sta lottando per non retrocedere ha una tifoseria sul piede di guerra quindi il trasferimento di Marcos Leonardo alla Roma è tutto forché scontato è tutto forché scontato le promesse purtroppo lasciano il tempo che trovano perché come vi ho detto la Roma aveva la parola di alcuni giocatori in questa finestra di mercato però poi abbiamo visto come è andata a finire quindi Arnautovic aveva la promessa da parte del suo club che lo avrebbe lasciato ed abbiamo visto come è andata a finire quindi il quadro degli attaccanti è ancora da delineare certo una coppiata Marcos Leonardo e Duván Zapata nonostante le doverose perplessità fisiche che si hanno sul giocatore colombiano garantirebbe di avere un brevilinio e un centravanti forte fisicamente di avere anche Belotti non sarebbe la prima volta che comunque Mourinho come dire pretende di avere tre centravanti perché se ricordate la prima Roma muriniana aveva in Borca Majoral il terzo centravanti quindi ripeto non sarebbe la prima volta che la Roma si presenterebbe ai nastri di partenza con tre attaccanti chiaramente poi nel mercato invernale sulla base delle condizioni fisiche di Ebram si valuterebbe se continuare con questi tre centravanti più Ebram o si valuterebbe se magari cedere che posso dire io un Belotti nella prossima sessione invernale per proseguire appunto con che ne so un Marcos Leonardo di turno un Zapata di turno più un Ebram in fase di recupero ma quelli saranno nodi che verranno sciolti solamente più avanti il quadro di Mourinho è un quadro da delineare ovvero c'è una certezza cioè che il suo contratto scadrà al termine della stagione ma per il resto è comunque sia un quadro da delineare lui nell'intervista che ha rilasciato a Zazzaroni ha fatto capire come un allenatore che allena una squadra minore come è capitato ad Ancellotti quando è andato all'Everton poi può tranquillamente tornare in un grande club per vincere credo che sia non dico il piano di Mourinho ma quantomeno abbia fatto intendere come lui sia ancora un grande allenatore sia ancora un allenatore da Real Madrid quindi nel caso in cui dopo una stagione eventualmente deludente con la Roma si aggregasse poi tornando a Real Madrid sarebbe comunque pronto per continuare a vincere quindi l'unica cosa l'unica riflessione che mi viene da fare ed è una riflessione piuttosto semplice ricorderanno tutti cosa ha detto Mourinho nella conferenza stampa la prima quando pieni di orgoglio lo accoglievamo da noi vi ricordate cosa disse Mourinho sul terzo anno gli hanno chiesto mister ma al terzo anno che è il suo ultimo anno di contratto cosa si aspetta da trovare e io penso che quando Mourinho rispose sul cosa ti aspetti di trovare chiaramente non è che Mourinho faccia di mestiere l'indovino quindi penso che quando Mourinho fornì quella risposta la fornì sulla base del progetto che gli era stato prospettato dai Fretkin e bravo Marco molto attento disse che lui al terzo anno si sarebbe attesa una Roma a festeggiare per festeggiare è chiaro che intendeva dire che si sarebbe attesa una Roma competitiva per lo Scudetto poi nel calcio non si può mai sapere naturalmente perché come avete visto il Napoli lo scorso anno ha preso degli emeriti sconosciuti quest'anno sta proseguendo nell'acquisto di calciatori sconosciuti e più adesso arriverà il purista di calcio che dirà di conoscere perfettamente quei nomi che prende il Napoli in realtà al 90% delle persone sia tifosi del Napoli che della Roma che di calcio in generale risultano essere degli emeriti sconosciuti solamente che il Napoli prende dei ragazzi giovani e dei ragazzi sani fisicamente mentre noi il problema è che stiamo prendendo invece dei nomi tra virgolette noti anche in alcuni casi bolliti ma insomma non è non è lo stesso tipo di mercato però ripeto il calcio è imponderabile perché neanche i tifosi di Napoli e Lazio avrebbero pronosticato le loro squadre nelle prime due posizioni del campionato sinceramente quindi stiamo partendo veramente non nel modo migliore possibile perché stiamo partendo senza alcuna senza alcuna progettualità perché non penso che Murigno avesse progettato inizio mercato di prendere che ne so Zapata Marcos Leonardo questi nomi qua purtroppo è una situazione in cui la Roma si è andata a trovare ed è abbastanza sintomatico come passi da giocatori affermati a giocatori bolliti a giovani di belle speranze quindi voglio dire c'è un po' una confusione procedurale perché in questo momento come ho evidenziato nel post che ho scritto il potere d'acquisto della Roma è praticamente inesistente quindi ripeto io mi sento di distribuire le responsabilità tra tutte le componenti che sono interessate in questa situazione quindi sicuramente la proprietà non è esente da responsabilità ma ripeto se ci troviamo in questo marasma è anche perché Pinto non è stato capace di ritagliarsi la sua fortuna e se un club come il nostro è un piccolo club un piccolo medio club toppa acquisti come Shomuro dove vigna poi negli anni successivi si trova inevitabilmente senza denaro e quindi insomma ripeto diverso il discorso se tu peschi a 0 nana e lo rivendi a 50 e 60 se tu peschi a 15 oil e lo rivendi a 85 quindi voglio dire credo che sia maturo come dire distribuire le responsabilità tra le varie componenti che fanno mercato una cosa è sicura non escludo assolutamente un passaggio di proprietà però in questo momento si cerca ripeto ancora finché il sogno come dire la velleità il prospetto stadio resta in piedi i Fretkin vogliono tenere in mano il timone delle situazioni quando invece questo stadio evaporà definitivamente i Fretkin appunto venderanno senza alcuna remora questo è uno scenario quindi da ponderare che non si può non si può escludere a priori e quindi insomma ripeto nel distribuire le responsabilità credo che vanno contemplate tutte le componenti che si stanno occupando di calciomercato una cosa è poco ma sicura Mourinho aveva indicato come primo nome per l'attacco quello di Alvaro Morata e come primo nome per il centrocampo quello di De Paul poi aveva alto gradimento per alcuni profili a parametro zero come quello di Camada è stato accontentato su Ndiga è stato accontentato su Awar ma sul resto del versante non è stato accontentato tra l'altro anche nella conferenza stampa no nella conferenza stampa nell'intervista che ha rilasciato a Zazzaroni ha detto chiaramente come il nome che aveva fatto perché in quel caso si parlava solamente di attacco il nome che aveva fatto e ve lo dico io qual è Morata non è stato preso poi è stato un po' tragicomico perché Pinto diceva di aver preso Scamacca e quindi aveva imposto anche a Mourinho il nome di Scamacca per via di una presunta maggiore sostenibilità economica in prospettiva futura e poi è stato tragicomico perché lui pensava di averlo preso e ha fallito clamorosamente questo obiettivo e quindi Pinto si è imposto si è imposto anche sull'allenatore sulle volontà dell'allenatore ma poi non ha quagliato e quindi insomma chiaramente io non posso non distribuire anche a lui una fetta di responsabilità sull'aumento dei biglietti ho detto chiaramente la mia lo trovo assolutamente vergognoso quasi immorale perché dei tifosi che non sono carne da macello da spremere dei tifosi che veramente ti hanno e ti sosterranno ancora perché io poi sono il primo ad andare allo stadio nonostante tutte queste criticità tu come li premi alzando i prezzi in quella maniera quasi raddoppiandoli è veramente un qualcosa che trovo poco digeribile l'ho detto praticamente immorale quindi questa è una cosa che veramente non riesce ad andarmi giù perché in questi anni davvero oltre a Muregno l'altra componente è bellissima sono stati proprio sono stati i propri tifosi su Matic è un quadro tutto da delineare perché comunque la Roma chiede 8 milioni il Ren è disponibile sia no ad arrivare fino a 5 quindi Matic può volere dire tutto ciò che vuole ma naturalmente la Roma deve anche salvaguardare i suoi interessi quindi se i francesi saranno disposti a cacciare una cifra a mio parere assolutamente fuori mercato per un 35enne ok probabilmente questa cessione andrà in porto e verrà sostituita a prezzi di saldo praticamente gratuiti da Paredes ma in caso contrario insomma Matic resterà a Roma e allora lì c'è un rapporto che va un attimo ricostruito perché ragazzi io almeno i miei followers sono persone piuttosto in gamba che capiscono anche i segnali che provengono all'interno della Roma ragazzi io vi voglio bene ma voglio dire ma cosa vi deve dire Pellegrini cioè ragazzi Lorenzo Pellegrini e Matic non si seguono su Instagram non c'è la ben che minima amicizia tra i due poi ripeto tutti vi possono propinare tutte le cazzate del mondo che si vogliono bene che si amano ma questo per me non è neanche importante oltretutto perché Batistuta l'avrebbero ucciso tutti Falcao appena è arrivato a Roma non gli passavano la palla e lì si impose Tino Viola e disse a tutti una cosa è certa io ho preso Falcao e Falcao resta qui voi non lo so quindi iniziate a passare la palla a Falcao non dovete uscire insieme dopo l'allenamento ma certamente siete pagati per fare il bene della squadra quindi Pellegrini fa anche bene a dire quelle cose ma insomma sono dichiarazioni che secondo me non hanno alcun peso specifico da capitano ha fatto bene come dire a dissipare dubbi sulla questione ma sono però situazioni che restano la verità è che Matic ha praticamente legato molto con Di Bala legato molto con Smalling quindi insomma ha dei rapporti ben definiti mentre onestamente con i senatori italiani c'è stato più di uno scontro ma io sono anche favorevole perché in una squadra di calcio per me è anche costruttivo avere questi dure faccia a faccia quindi questo è per dire per inquadrare in tutta franchezza la situazione Matic ragazzi sul discorso proprietario penso che sono stato piuttosto chiaro non vi preoccupate lascio questo video in bacheca sto valutando se ho tempo anche di caricarlo eventualmente su youtube quindi state tranquilli e penso insomma ad aver fatto chiarezza di tutti i temi la Roma potrebbe effettivamente essere venduta al momento si cerca però un socio poi quando e se tramonterà definitivamente la questione sta di Fredkin non esiteranno a venderla perché ripeto per il loro business è un asset come gli altri quindi non c'è particolare trasporto o passione per la Roma vale come le altre aziende né più né meno quindi se il loro progetto business economico business plan sarà fattibile ok quando capiranno come ha fatto Pallotta che non ci sono ulteriori margini di manovra rivederci e grazie e la metteranno in vendita quindi al momento ci sono solamente collochi esplorativi per fare entrare i soci importanti ma ci sono stati fin da quando insomma i Fredkin hanno detenuto il club però se nelle prossime settimane come avete visto anche Roma Capitale ha postato qualcosa sullo stadio su una riunione se capiranno che insomma non c'è margine di manovra rivederci e grazie questo è quindi come sempre ho cercato di essere onesto su tutti gli argomenti affrontati grazie Grazie.